A proposito di tagli, il sindaco De Vito cosa farebbe per il suo stipendio? Come taglierebbe o ridurrebbe il suo stipendio? Tocca un tema importante per il movimento perché in questo pensiamo di aver fatto veramente una rivoluzione nei costi della politica e lo stiamo già dimostrando. Abbiamo rinunciato al finanziamento pubblico ai partiti, tanto i parlamentari si sono ridotti lo stipendio a 2700 euro e la diaria la terranno solo riguardo alle spese documentalmente provate questa è una decisione di ieri, mentre i partiti si intascano tutto, si intascano non so quanto 20.000 euro al mese. Il nostro stipendio lo stiamo decidendo in questi giorni ma sarà chiaramente ridotto al minimo, ma le dico una cosa, non mi interessa quanto andrò a prendere la cosa che mi interessa veramente fare è essere il sindaco di questa città e governare bene comunque sarà un normale stipendio per un'attività, per questa attività insomma, quindi potrebbe essere sulla base di quello dei parlamentari o dei consiglieri. Quindi intorno ai 2500 euro netti? Sì, sì.